Rientra dall'Expo di Milano, viene colta da improvviso malore, muore a 32 anni, è successo a Vallo della Lucania, Carmela Manganiello ieri mattina è rientrata da Milano dopo due giorni trascorsi a visitare i padiglioni dell'evento internazionale. Appena scesa dal pullman ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti all'altezza dell'addome, si è fatta accompagnare a casa dove la situazione è precipitata, i dolori sono diventati sempre più forti, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso, la ragazza è morta in pochi minuti sotto gli occhi impotenti dei familiari. Sotto sciocco un'intera comunità, la 32enne viveva nella frazione Pattano di Vallo della Lucania, la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Da chiarire le cause del decesso, non è da escludere che la ragazza sia stata colta da un aneurisma addominale. Qualche giorno fa Carmela era partita da Vallo della Lucania per raggiungere Milano, desiderosa di visitare il grande evento Expo 2015. Insieme a familiari ed amici aveva trascorso due giorni all'insegna della spensieratezza, poi il tragico epilogo, una morte improvvisa che ha stroncato la vita alla sfortunata 32enne.